Grazie a tutti. I'm 12, I was born in Germany. Si chiama Joshua, 12 anni e è nata in Germany. My name is Diana, I'm 15, I'm a beautiful girl. Si chiama Diana, 13 anni ed è una bellissima ragazza. Vi presentiamo la nostra scuola. La nostra scuola si chiama Elio Vittorini. Qui è la nostra scuola, Elio Vittorini Secondary School. E' situato a San Pietro Clarenza. It's located a San Pietro Clarenza. E' bella! It's a nice... Andiamo allo spazio verde. There's a green area. Andiamo allo spazio verde. Qui è in questo video. E' un'altra scuola. E' un'altra scuola. E' un'altra scuola. Queste sono le nostre classi e i nostri abbonatori. Queste sono le nostre classi e i nostri abbonatori. Hello, this is class 38. We're having our English lesson today. Thank you very much. Ci sono molti ingegnanti e tre collaboratori scolastici. There are a lot of teachers and three school co-attenters. We take part into a lot of projects, for example, sport and legality, musical contest, art contest, school trips. The project Meets and Legends, Glass Paper. We're happy to meet boys from the other countries. The cameraman. Gli attori.